Siete tanti, devo dire. Vedendovi da qua siete tanti. Dopo la spiegazione di oggi, dopo aver visto tutti questi belli speaker che parlavano di idee, di quello che è la scienza, di quello che ci circonda, parliamo di qualcosa un po' più leggero, visto che siamo dopo pranzo e quindi magari è un tema un po' più leggero, ma che comunque si ricollega a quello di cui hanno parlato i nostri relatori stamattina. Vi introduco e focalizzo sul significato delle parole che vedrete su questa presentazione. Nel 2009 parte un progetto che si chiama Open Design Italia, con un gruppo di persone, soprattutto una persona che è qua presente con me che è la Rosso Cini. È un progetto per noi innovativo, diverso che parte dalle esperienze personali, designer, quindi tutti i designer magari in sala ce ne saranno molti e spero che magari quando uscirete da questa presentazione vorrete anche voi essere parte di questo fantastico mondo. Parte l'idea e vogliamo far capire che cosa sta nascendo. Open è apertura. Che cos'è? L'apertura ha un tipo di design diverso che sta nascendo da dieci anni in Nord Europa, ma anche in Italia. Si chiama Open Design Italia. È l'evento che in qualche modo fa e enfatizza le creatività e i designer che seguono l'autoproduzione piccola serie. Piccola serie che sono oggetti creati dai designer, quindi il designer è protagonista del nostro evento, perché abbiamo creato una manifestazione basata su un concorso di idee dove partecipano e ogni designer espone e vende i propri oggetti. Oggetti realmente realizzati e più che altro che enfatizzano quello che è la creatività e la produttività del territorio italiano, ma anche internazionale. È un concorso quindi internazionale e quindi sul tema del design. Il design quindi è largo, prende qualsiasi tema in questo momento, ma ci siamo focalizzati soprattutto su il Made in Europe e quello che è l'internazionalizzazione. Cioè i designer che vengono da noi e espongono, quest'anno sono 90 dopo una selezione di più di 250 iscritti da paesi dell'Ungheria, la Francia, la Birmania, New York. Sono tutti paesi che comunque vengono e vogliono esporre e far vedere le proprie idee, quindi i designer sono protagonisti di questo evento. I progetti che vedete alle mie spalle sono realmente venduti nella mostra che avrete magari spero a vedere a novembre. Cosa è? È anche un bacino di idee, perché Open Design Italia deve essere visto non solo come una mostra al mercato, un concorso o semplicemente una vetrina per i designer, ma anche per le stesse aziende, perché in questo momento, periodo storico diciamo, la cosa fondamentale sono le idee che devono nascere appunto dal basso, ma soprattutto devono essere concrete e soprattutto devono portare innovazione e questa è una normale azienda che produce design e lo sa benissimo, perché deve fare anche ricerca di mercato. Questo ha enfatizzato anche quelli che sono distretti produttivi, non solo italiani, ma anche esteri. Quello che ci ha portato poi a capire, stavamo andando nella direzione giusta, sono i risultati. Questo è il primo evento fatto nel 2010 a Modena e al Foro Boario, ha portato 4.000 visitatori solo, esclusivamente, con poche energie. 2011 l'abbiamo fatto a Bologna e poi successivamente nel 2012 siamo arrivati in un altro territorio, che in realtà è sempre l'Italia, che è a Venezia. Questi risultati ci hanno portato poi a capire che stavamo andando nella direzione giusta per enfatizzare quello che era il vero progetto. Open Design Italia, la terza parola è Italia, perché vogliamo sottolineare il fatto che il progetto è nato in Italia, non si parla di Made in Italy, ma che è nato in Italia. L'anno scorso abbiamo chiesto ad ogni designer di descriverci quelle che sono la fase produttiva e l'ideazione, cioè dove nasce. Quindi abbiamo creato la carta d'identità dell'oggetto per il designer. Abbiamo chiesto ai tutti i designer che partecipavano alla nostra manifestazione di presentare la carta d'identità, perché l'utente finale ha bisogno di comprare degli oggetti e che sappia realmente come vengono realizzati. Questo poi ha portato a che cosa? A farci capire che ci sono dei distretti forti produttivi in Italia, dove il designer si lega con artigiani, piccole e medie aziende, ma anche aziende più grandi. Il designer in questa situazione vuol capire, enfatizza il territorio, enfatizza l'artigianalità e soprattutto in questo momento fa capire che cosa sono le due cose importanti che ci hanno spinto a me e a Laura a portare avanti questo progetto. La prima è enfatizzare il fatto delle relazioni, cioè le persone vogliono venire a comprare e sapere quello che c'è dall'altra parte. La seconda cosa fondamentale è le relazioni internazionali, cioè far capire ad ogni designer che quello che sta facendo sta andando in direzione giusta. Ma il vero risultato qual è? Noi in questo percorso di tre anni abbiamo partito l'idea, dobbiamo andare avanti, cioè dobbiamo far capire che cosa sta veramente nascendo in questo momento. E ci siamo posti questa domanda. Questa è la classica filiera produttiva che vedete per quanto riguarda le aziende del design. Ripeto, la manifestazione parla di un mercato parallelo che non si contrappone a quella che è normalmente la filiera produttiva dell'industrial design. Però come vedete emergono che cosa? Emergono fondamentalmente l'azienda e l'utente finale vede quel che compra ma non sa chi sono i soggetti, i secondi soggetti. Perché come sapete il progetto parte da un prototipo, ci sono delle idee, vengono concretizzate e poi si passa la filiera produttiva. Poi abbiamo guardato il processo produttivo dell'autoproduzione, quindi della piccola serie e abbiamo capito che emergeva il designer sempre di più, c'era una grande figura, però tutto quello che era connesso sempre al di sotto del design non emergeva. In questo momento ci siamo posti le problematiche. In tutte e due le filiere produttive ci sono due problematiche. Il problema dei soggetti che non si relazionano spesso perché hanno problemi, uno è un artigiano, un designer, un'azienda, insomma sono meccanismi difficili perché comunque sono persone che si devono relazionare. La seconda problematica era fondamentalmente la commercializzazione e distribuzione, che è difficile poter diffondere questo tipo di mercato. Anche perché i designer che vedete esporre alla nostra mostra hanno già un sito, vendono tramite e-commerce, hanno già una diffusione molto larga di quelli che sono i progetti che realmente producono e poi vendono da noi. Ma quello che ci ha portato avanti, quello per cui vogliamo andare avanti da adesso in poi, è il progetto che poi ci ha spinto a vincere Spinner 2013, cioè creare una factory. Che cosa significa? Significa che punto net è network per noi, cioè creare delle relazioni che sono quelle normalmente dette network, può essere sia internet sia tutto quello che è media, ma in realtà quello che vogliamo riscoprire sono quelle che sono le relazioni personali. Perché le idee sono belle finché sono idee, ma devono essere concrete e la concretezza si realizza invece in realtà quando abbiamo una relazione di persone. Quindi abbiamo creato Open Design Italia Factory. Che cos'è? Abbiamo preso i nostri vincitori designer delle passate edizioni e li abbiamo poi connessi ad artigiani, artigiani del territorio. Siamo partiti col primo esempio adesso con il design factory punto zero. Che cosa sono? Sono i designer che si relazionano ad artigiani e stiamo producendo gli oggetti con un tema e abbiamo dato il tema del nomadismo, cioè oggetti realmente che l'utente finale possa realmente comprare e avere quindi una relazione direttamente con noi. La mission è quella fondamentalmente di esprimere quello che è il territorio, che vi facevo vedere prima nella mappa dell'Italia, la creatività, la produttività, perché ogni designer si relaziona appunto a un artigiano del posto e quindi a un'azienda del territorio. Ma tutto questo ci ha portato anche a farci capire che non basta solo la creatività, non basta solo le idee, non basta solo la produttività, ma ci servono dei servizi. E più che altro bisogna far capire anche il valore aggiunto di questa nostra nuova piattaforma. Che cosa sono? Che fino alla filiera produttiva che avevate visto fino ad adesso o emergeva il designer o emergeva l'azienda, ma in realtà non emergeva effettivamente la figura dell'artigiano. Quindi con questo tipo di progetto abbiamo cercato di connettere nel network, connettere nella factory i due soggetti e farli crescere nella stessa maniera. Quindi nella prossima carta d'identità che voi vedete degli oggetti che esporranno da noi, sono in realtà oggetti che vengono creati e ideati dagli artigiani che avranno entrambe le due figure stesso guadagno e comunque anche stessa visibilità. Significa quindi, semplicemente con le parole chiave che vedete qua alle mie spalle, cioè il fatto di creare questo rapporto tra i due soggetti e poi più che altro aiutarli nella promozione e distribuzione degli stessi oggetti che verranno creati e aiutarli anche nella formazione e l'assistenza, perché abbiamo visto in questi anni che i designer o comunque i partecipanti, espositori alla nostra mostra, vengono però hanno bisogno anche di un supporto. Spesso sono preparati magari sulla produttività, ma non sanno molto quello che è inerente a come relazionarci con l'utente finale, come poter emancipare, crescere e far vedere quello che realmente fanno e quindi emergere anche tra i diversi talenti. Sottolino il fatto che l'evento Open Design Italia porterà quindi, sarà l'evento che sarà la parte fulcro, su cui poi si baserà la factory. Quindi quello che vogliamo far capire è che tramite questo bando di concorso c'è una forte selezione, cioè situazioni in cui partono veramente, non sanno realmente se vogliono fare del design o stanno producendo degli oggetti. In questa realtà loro emergono e quindi molte realtà che stanno nascendo dal 2010 che esci sempre sul tema della produzione, devo dire che stanno creando altre situazioni e stanno trovando scouting su di noi perché noi facciamo emergere proprio dal basso delle situazioni che poi emergono. Vincitori del nostro evento sono arrivati a esporre a manifestazioni internazionali, al DIY di Berlino, possono addirittura produrre con grandi aziende tipo Seletti. Insomma, quindi per farvi capire che non è solo importante l'idea, ma poi bisogna passare anche all'esecutività dello stesso oggetto. Continuando sulla factory, quindi noi parliamo di oggetti di design, quindi in relazione alla factory e questi sono esempi di oggetti che sono già stati prodotti dai designer che sono partecipati alle nostre passate edizioni, ma che enfatizzano la qualità degli oggetti che voi potete comprare perché è appunto una mostra di mercato. Quindi quello che sottolineiamo è che i soggetti più importanti per noi sono quelli che producono idea all'oggetto, ma anche l'utente finale, cioè voi che venite a comprare, perché voi dovete capire fondamentalmente avere una trasparenza della filiera produttiva e quindi capire magari che quell'oggetto è stato veramente creato vicino a casa vostra. E poi ci serve far capire anche quelli che sono non più quegli accessi virtuali degli oggetti, ma arrivare a una manifestazione come la nostra e poter trovare veramente degli oggetti concretamente producibili, ma anche vendibili. Quindi l'Open Design Italia che cos'è? Fondamentalmente per noi è un progetto che stiamo portando avanti da questi diversi anni che vi stavo dicendo e vuole anche proporsi come quello che è la factory, perché siamo convinti che le idee sono sempre positive, ma che comunque devono avere un risultato, anche un riscontro. Quindi vi aspetto tutti dal 22 al 24 novembre a Venezia, perché è la nostra vetrina con cui ci accompagna da due anni, e vedrete design che vengono da tutto veramente il mondo, perché la selezione del concorso è stata fatta qualche settimana fa e ha portato degli ottimi risultati, e più che altro venite a comprare, perché queste sono tutte idee diverse. Voi troverete oggetti che esprimono non solo il territorio, la creatività dei singoli, ma esprimono anche un tipo speciale di produttività e di materiali, perché sono oggetti tutti diversi, proprio perché i soggetti sono diversi. Quindi vi ringrazio e grazie di essere così tanti.